Sono io ragazzi, sono Gabri Costa. In questo videogioco My M Brawler, sapete dove siamo ora? Nella vecchia metropolitana. Questo è il quarto livello alternativo che vi sto facendo vedere. Che ve ne pare? Cosa ne dite? Bisogna capire dove sono questi treni. Ecco, sta arrivando un treno ragazzi. Ora si ferma, apre le porte e fa scendere i nemici. Questi fuori legge e i tettisti. Mi tocca picchiare anche la sicurezza. E ora il treno riparte e va via. Ecco perché si era fermato. Se non avete notato la nostra eroina giocabile, Star, ha dei bei capelli biondi e poi ha le unghie delle mani smaltate blu. Mi piace la metropolitana. Mi sa che vi devo salutare. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.